Domenica 13 febbraio, ore 13 e 16, musica soft, Ford Focus si va in transfer, si va in casa della capolista, Federico Muratori, oggi contro chi giochiamo? Oggi Udo Visconti, dobbiamo sfatare quel campo di merda, mi stanno sul cazzo, ahia, ma puoi fare una piccola anteprima sul match di oggi e poi chiudiamo brevemente? Oggi sarà una battaglia, campo pesante, dobbiamo essere aggressivi e pensare soltanto a portare a casa i tre punti, ah perché oggi i tre punti sarebbero fondamentali eh? Assolutamente sì. Oggi sarà una grande prestazione, bisogna solo vincere, con grinta, battagliare e niente, cioè oggi ti tosta eh? L'attenzione, l'attenzione. Sul fondo della macchina, Ronaldinho ha detto Leone, The Lion, Spiga, i cassetti giallorosso. Gira voci sui quotidiani sportivi, che la munizione di Federico Muratori oggi è data a 0,85. Non si sa come mai agire a questa voce. Sì sì, nervoso oggi, nervoso. Sì sì, nervoso oggi, aia, ma... All'andata c'era... Tu come affronteresti questa partita? Ci arrivavano le scatte con gli apprezzionati. In che modo lo affronteresti questo match? Beh, io confermerei il 4-3-3 che ci ha portato fino al quarto posto attuale. Pazzo... Eh, Mordo, dove andava, Mordo? Vesta a destra, scari! Dio santo! 4-3-3, belli stretti e compassi. Stretti e corti. Allardiamo il gioco sulle fasce, ci infiliamo dentro. Se mi posso permettere... Il pronostico non lo dico perché è una partita bastarda questa. Però... Io penso che la panchina oggi potrebbe fare veramente la differenza. Come era? Direi proprio di sì. Vero, spiga? Uh, la panchina di qualità dello Zibido. Tanta roba! Tanta roba! Sei d'accordo del Lion? D'accordo, confermo, confermo. Grande, Lion. Grande. E niente, ragazzi... Stiamo andando al campo. Vediamo che cazzo esce fuori. Eh, ci vediamo dopo la partita. Ok, ciao! Ciao, bastardi! All' tapping. Successà fuori! Vergiss. Bisagrini. Successà fuori! Sicacumismo suoi Grazie a tutti.